Penso che era giusto e corretto che dicessi le cose così almeno le sentivate dal vivo, da me stesso. Ieri sera sono usciti degli articoli che comunque non rispondono a quello che è la realtà del momento e mi riferisco al fatto che Castori possa essere in discussione. Siccome che stiamo facendo un lavoro secondo me importante, a prescindere poi da quello che sta capitando domenicalmente o il sabato, perché purtroppo siamo in una situazione difficile, credo che nessuno possa nasconderlo, però stiamo facendo tutto quello che le nostre possibilità per tirarci fuori da queste situazioni. Quindi quando vengo a leggere notizie che io e il non andiamo d'accordo, che io e il mister abbiamo rotto il rapporto, che è in discussione, sinceramente rimango molto... Guardate, una volta mi incazzavo, oggi rimango deluso e credo che sia peggio di quando mi incazzavo, perché la delusione proviene dal fatto proprio che ancora c'è gente che tende a destabilizzare l'ambiente quando non c'è nessun motivo per fare questo. Quindi sono venuto qui, sono venuto a testimoniarlo di persona, perché non c'è nessun problema con il mister tra me e lui e tra lui e il direttore sportivo. Crediamo ciecamente nel lavoro che stiamo facendo. Come ben sapete, ahimè o forse per fortuna, questo non lo so, è già stata presa una decisione del genere a novembre, è stata ad oggi forse una decisione che ha portato solo svantaggi, non lo so, se credetemi non lo so, forse ha pure portato dei vantaggi, però questo non significa che il rapporto con il mister non sia saldo. Quindi per cortesia, se ci volete aiutare facciamo la finita di dire cose che non corrispondono alla verità, perché il giornalismo a me mi va bene, però deve essere un giornalismo corretto e non devono essere dette cose inesatte soltanto per fare clamore ed ottenere qualche click in più sul sito sitarello di turno che scrive certe cose. Fabrizio Castori è il nostro allenatore, lo rimarrà fino all'ultimo perché io sono convinto che il nostro allenatore ci farà salvare. La squadra è con lui, io sono con la squadra, il direttore è con noi, siamo uniti, siamo compatti. Non sto dicendo che non stiamo in difficoltà perché se non lo saremmo saremmo più in alti in classifica. Evidentemente ci sono e ci saranno ancora dei problemi perché purtroppo è questa stagione che è iniziata male e sta continuando su quella falsa riga, ma questo non significa che all'interno non siamo uniti. I ragazzi sono compatti con l'allenatore e io e Renzo, che rappresentiamo la società insieme al direttore generale Attilio Matarazzo, siamo compatti con tutti loro. Signori, io voglio chiudere, poi darò spazio a qualche domanda, voglio dire solo una cosa, noi all'interno siamo positivi, non ce la togliete voi dall'esterno questa positività, perché credetemi fare quello che stiamo facendo non è semplice perché purtroppo adesso ogni volta che ogni volta che si perde una partita andare a cercare il capo espiatorio è l'errore più grande che possiamo fare in questo momento. Gli errori ci sono e ci sono stati e sotto gli occhi di tutti è inutile stare sempre lì a mettere il dito nella piaga. L'allenatore è una persona che comunque, già l'ho detto qualche mese fa, se oggi il Perugia starebbe lottando per gli ultimi posti in classifica e decidessi di cambiare allenatore, io andrei a prendere Castori perché è un allenatore che ci dà certezze, sicurezze, attemperamento e comunque ha anche un certo tipo di esperienza sia nel vincere i campionati sia nel farli nella lotta salvezza. Ecco perché deciderei per lui. Allora io dico ma come ce l'ho? E adesso qualcuno deve scrivere dall'esterno che lo vogliamo mandare via. Non è corretto, non è corretto. Per cortesia dite le cose esatte, che se dite le cose esatte nessuno si lamenta. Questo non significa averceli con i giornalisti. Se adesso rigirate le mie parole è un problema vostro, però mi dispiace perché poi la gente legge e siccome che tutti non hanno la possibilità di seguire la conferenza, legge quello che scriviamo e scriviamo delle inesattezze, disturbiamo la testa delle persone che ci deve aiutare a conquistare la salvezza. Questo è il punto. Per chiudere anche un altro episodio, per non starne sempre troppo a parlare, all'allenatore si possono fare tutte le domande del mondo perché è lecito ed è doveroso farle, perché voi fate un lavoro e noi ne facciamo un altro e noi stiamo qui a disposizione anche per rispondere alle vostre domande perché è corretto farlo. Però io dico c'è anche modo di fare il vostro mestiere, che cosa voglio dire? Che ci vuole anche l'intelligenza e la furbizia di formulare certe domande o in un certo modo o in un certo momento. Se poi non dovesse accadere questo e si riceve una risposta magari direi tra virgolette nervosa, cercate di capire comunque le altre persone che comunque non fanno i giornalisti, stanno facendo un lavoro che in questo momento gli porta delle tensioni. Quando si perde, signori, non è che è solo il mister che è nervoso. È nervoso il presidente, è nervoso il direttore sportivo, sono abbattuti i giocatori. Cioè c'è un ambiente dentro lo spogliatoio che magari chi non l'ha mai vissuto non si rende nemmeno conto e subito dopo si deve andare per obbligo a parlare con la stampa. Ma ci si va con un sentimento che in quel momento è sbagliato perché la cosa più corretta sarebbe non andare, ma non si può fare. Quindi scusateci, accettateci anche se qualche volta rispondiamo in maniera poco consona, come dite voi. Però nello stesso momento vi dico anche voi fatecelo al momento giusto certe domande oppure fatele nella maniera più corretta. Questo è per chiudere anche questa piccola diatriba che si è creata. Io vivo con il mister tutti i giorni, credetemi, una persona talmente buona, talmente umile, perché comunque si è fatto da solo, ma non si permetterebbe mai di rispondere male a... ma non a un giornalista, ma nemmeno a una persona per strada. Purtroppo lui è costretto ad andare a rispondere in un momento difficile, delicato. Cioè, quindi, io non devo fare l'avvocato di nessuno, ci mancherebbe altro. Però questo è per non creare bespagli inutili che non servono a nessuno. E magari quelle cose scritte ieri sul rapporto tra me e il mister sono state scritte proprio per questo motivo, perché c'è qualcuno che se l'è presa male e adesso di conseguenza deve creare problematiche per vendicarsi. Non lo fate, signori, perché c'è di mezzo il Perugia, questo sto dicendo io. C'è di mezzo il Perugia. Noi oggi abbiamo bisogno della gente che sta con noi. Abbiamo bisogno di positività a fianco a noi, perché, malgrado tutto, noi all'interno siamo positivi e vogliamo trasmetterla questa positività. Aiutateci. E voglio chiudere con un piccolo appello che sono tanti anni che non li faccio più. Mi è arrivato forse il momento anche di ridirlo. Signori, il derby non lo abbiamo vinto a caso 3-0. Lo abbiamo vinto perché c'era uno stadio meraviglioso. C'era uno stadio che non vedevamo nessuno da circa 6-7 anni tra Covid e problematiche varie. La nostra forza è quella. Il Curi ci ha sempre avuto quella forza. Quando è pieno, signori, quindi io dico una cosa. Agli occasionali, come vengono chiamati da tutti. Bene, è il momento che venite, signori occasionali, se così è giusto chiamarvi. Ma io vi vorrei chiamare tifosi del Perugia. Venite sabato, venite fino alla fine. Abbiamo bisogno che la gente ci spinga a raggiungere l'obiettivo, che comunque è difficile. E tutti lo abbiamo capito ormai. Si perde e si vince per un episodio. Le squadre stanno un po' tutte lì. Poi sicuramente ci sono quelle più forti. Lo sta dimostrando il campionato. Noi non diciamo di no. Però abbiamo anche visto che in questo momento perdiamo sempre le partite per una carambola, per un tiro meraviglioso, per un episodio. Forse anche perché siamo più scarsi degli altri. Sicuramente io questo non lo voglio nascondere. Però abbiamo bisogno della gente, della positività. Abbiamo bisogno dello stadio. La nostra salvezza passerà da alcuni, signori. Sei partite. Fate tutti un sacrificio. Prendete l'impegno dal lunedì con le famiglie. Dite alle moglie, ai figli che devono venire o con voi o venite allo stadio. Ci dovete aiutare. Questo è appartenenza. Non è soltanto dire io ti for Perugia. Questa è appartenenza. Questo significa fare parte di un qualcosa. Perché se noi ci riusciremo a maggio gioiremo tutti insieme di questa cosa con i nostri tifosi e con i nostri giornalisti anche. Perché comunque signori siamo tutti dentro la stessa baracca perché qui quando si perdono le categorie andiamo tutti indietro. Non è che va indietro solo il club. Va indietro tutto. La città, i giornalisti. Quindi oggi che abbiamo la possibilità reale di farcela perché noi oggi siamo salvi. Aiutiamoci tutti insieme ma veramente questa volta. Non è il solito appello. Tutti uniti, tutti di qua, tutti della nord. Dovete venire allo stadio. Dovete venire allo stadio. Dobbiamo rifare i 9600 del derby e noi la portiamo a casa signori. Se noi siamo a 9600 la portiamo a casa. I ragazzi ci stanno. Stanno sul pezzo. È una squadra onestissima. Io di una cosa sono certo. Sabato metteranno tutto per poterla portare a casa. Io l'unica cosa che non posso promettere è la vittoria perché se dipendesse da me io la prometterai tutte le settimane. Ma una cosa ve lo dico e ve lo scrivo col sangue. La squadra butterà il sangue sabato. Perché io sono convinto del mio allenatore e dei miei ragazzi perché li vivo tutti i giorni. Forza. Andiamo avanti che ce la facciamo. Presidente buongiorno Carlo Forciniti Corriere dell'Umbria. Al di là di tutto questo le chiedo Presidente c'è stato in quest'ultima partita e bravura degli avversari chissà forse dei meriti del Perugia. La sollecito su due aspetti perché mi interessa il suo punto di vista. Gli infortuni e qualche cartellino forse di troppo che si poteva evitare. Su questo cosa ne pensa Presidente? C'è un po' di coincidenza negativa in questo miniciclo oppure c'è anche un po' di responsabilità se si può usare questo termine da parte di giocatori. Guarda Carlo ti interrompo perché penso che la domanda è stata chiara. Allora hai ragione è il focus che abbiamo preso di petto insieme all'allenatore insieme a Castagnini perché poi io parlo perché comunque sono presente alle discussioni poi è chiaro che l'operatività ce l'ha il direttore. Però detto questo il focus è proprio questo. Il direttore per non usare altre volte parolacce è molto arrabbiato soprattutto per le ultime espulsioni perché tutto ci sta nel calcio ma ci sta anche essere intelligenti. Questo è quello che mi ha detto il direttore. Infatti io gli ho dato ragione perché anche io sono molto arrabbiato. Quindi le prossime espulsioni diciamo non intelligenti verranno punite con delle multe perché anche un'espulsione in questo momento determina un risultato ma non solo della partita in essere. Lo determina di quella dopo perché il problema poi è anche la partita che viene dopo. La seconda gli infortuni. Allora premesso che se vedete in tutte le squadre in questo periodo ci sono un paio di infortuni in alcuni gruppi ancora di più. Insomma chi sta meglio chi sta peggio però essendo un campionato proprio molto difficile non c'è mai la partita dove la giochi in scioltezza. Quindi ogni partita è una battaglia in Serie B e quando fai tante battaglie più passa il tempo e più la stanchezza va ad incidere sui muscoli. Questo è il mio pensiero. Detto questo però il direttore ieri mattina ha fatto una riunione fiume con dottori, preparatori atletici e allenatore perché comunque è intenzione del direttore di riuscire a capire se ci sono dei margini di miglioramento anche per uscire fuori da questa situazione perché tutto è lecito però tutto può essere migliorato. Questo è il punto. Quindi Carlo risponde alla tua domanda. Hai ragione stiamo lavorando su questi due problemi. Il primo risolviamo subito perché la prossima espulsione ci saranno delle murte pesanti. Il secondo il direttore sta lavorando con l'allenatore per cercare di capire come riuscire almeno in questo momento d'emergenza a riuscire a tirarci fuori da questa cosa. Comunque diciamo che già con la regina purtroppo adesso i vari squalificati fanno sembrare ancora la situazione molto in emergenza come lo è. Però gli infortunati sono di meno. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno. Tornando all'ultima partita, quella di Bolzano. All'irà del risultato si poteva fare qualcosa in più secondo te sul piano della prestazione? Cioè la squadra è mancata in qualcosa rispetto a quelle che erano le aspettative? Luca, con il senno del poi nel calcio, quando arriva una sconfitta, ma è normale che si poteva fare sempre qualcosa di più? Perché se hai perso evidentemente c'è un motivo. Quindi ti dico certo che sì, ma purtroppo queste cose bisognerebbe saperle prima della partita. Le si sanno dopo al risultato avvenuto perché si è visto quello che è accaduto. Io ti dico solo una cosa. La squadra, premesso una cosa, il Sud Tirol è forte. No, perché qui purtroppo quel nome maschera una squadra forte. E quando si gioca col Sud, che poi è diventata la loro forza, attenzione signori, perché qui chi non l'ha capito, in questo momento la vera forza del Sud Tirol è a chiamarsi Sud Tirol. Allora, che cosa succede? Questo è il primo problema quando vai a giocarci contro. Perché invece io vi dico che li ho visti dalla panchina, quindi li ho visti a tre metri da me. Sono forti, sono giocatori forti, fisicamente forti. hanno trovato per bravura della società degli attaccanti molto importanti, parlo della serie B ovviamente, però i due ragazzi neri e Mazzocchi sono giocatori forti. Quindi al netto di aver incontrato una squadra importante abbiamo perso per un gol di scarto e purtroppo, come avete visto, abbiamo preso un gol che lo facevano vedere magari su staglie olio alle comiche, perché questo è successo. Questo purtroppo è successo, perché la squadra ha fatto un primo tempo, diciamo, un pochino così d'attesa che alla fine ai punti l'avrebbe vinto il Sud Tirol. Il secondo tempo è entrata bene in partita, ha aggredito, ha preso campo. Comunque sembrava che se una squadra dovesse far gol eravamo noi. Dopo prendi quel gol, vai sul 2-1, le azioni dopo io non le conto più, perché è chiaro che sul 2-1 cambia un'altra volta la partita, quindi poi riprendiamo due ripartenze e abbiamo rischiato di prendere il terzo. Però per me la partita va valutata fino al 2-1. Il 2-1 è stata una carambola che ha preso di nuca un difensore nostro, traversa, piede dell'attaccante, del giocatore del Sud Tirol, gol. Non voglio giustificazioni, però ti devo rispondere in qualche modo. Quindi ti dico, prima di tutto abbiamo giocato con il Sud Tirol, che è molto forte. Secondo, anche in quella partita non è che possiamo dire di essere stati fortunatissimi. Ecco, questo è però, dopo detto questo, la fortuna è pure vera che te la conquisti e tutti gli altri discorsi, ma noi ci stiamo lavorando su queste cose. Poi c'è pure da dire una cosa, signori, noi ad oggi abbiamo capito che qualche problema ce l'abbiamo, no? Quindi è chiaro che per noi non è semplice vincere le partite con la terza in classifica, la quarta, la seconda. Comunque dobbiamo trovare la giornata importante e la miglior prestazione della nostra squadra. Quando stai magari al 70-80% con queste squadre rischi di perdere. Però la cosa fondamentale oggi è la positività, l'equilibrio, signori, fino all'ultima giornata sarà così, si perde, si vince, perché c'è tanto equilibrio. Non ci dobbiamo prendere dal panico, non dobbiamo scrivere certe cose, perché io mi metto nei panni del mio allenatore, cioè legge quelle cose e ci rimane male, perché dice, ma come? Ma col presidente siamo stati fino a mezzogiorno a pranzo insieme, a parlare, a cercare di trovare una soluzione, va la sera a casa, legge certi articoli, perché lui magari inconsciamente dice pure io non ci credo, ma quando si legge, cioè dopo qualche cosa nella testa entra, non mi va, mi dispiace, perché sta comunque facendo il massimo, il possibile sta facendo, questo io dico. E poi vi dico un'altra cosa, questo per la Serie B è un grande allenatore, può piacere, non piacere, ma come tutti gli allenatori, non è che, cioè, se vai a Bari ci sarà qualcuno che non gli piace, Mignani, Margato Sottersi, è così, il calcio è questo, stiamo con lui, non lo facciamo sentire sempre, capito, fuori dalla nostra famiglia, facciamolo sentire uno di noi al mister, c'ha bisogno di questi, non vi fate tradire dal fatto che abbia 500, 900, 800 panchine, guardate che l'uomo dentro, siamo tutti uguali, siamo deboli, abbiamo bisogno di sentirci amati, in qualche modo, storto o morto, c'è sempre qualcosa che ci fa sentire al di fuori da quello che comunque amiamo più di ogni altra cosa in questo momento, l'allenatore ha bisogno di noi, ha bisogno di sentirsi amato, dopo l'esonero con il mister è nato un grande rapporto, ma io sono convinto, perché i migliori amici nella vita si creano con quelli che ci hai litigato al primo impatto, perché senza volerlo ti sei già chiarito su quello che non andava, quindi se poi il rapporto diventa importante è perché parti dà un chiarimento. Comunque, sto a fare il sermone con Marzolino. Antonello Ferroni, messaggero, la squadra ha fatto una rimonta straordinaria da ottobre a febbraio, mettendo in tutte le partite intensità straordinaria e questo piccolo riflusso, queste tre partite, sono dovute a una preparazione atletica in calo? Io credo di no, non so se sbaglio, perché giocare la terza partita in nove giorni, bene il secondo tempo, in teoria, fa pensare il contrario. Guarda Antonello, io credo di no come a te, io credo di no come a te, io invece credo in un'altra cosa, quando ci sta il turno infrasettimanale, la fortuna di avere un calendario favorevole, non potete capire quanto è importante, perché sempre in virtù di questo equilibrio che regna in Serie B, avere l'infrasettimanale con due partite fuori casa invece di due partite in casa, è una cosa che voi non potete capire quanto possa cambiare lo stato atletico della squadra, di tanto, certo, poi dopo non è solo questo, però io dico, per me no, ci può stare che dopo, il problema di chi sta sotto è proprio questo Antonello, che quando stai sotto e devi rincorrere, incomincia ad arrivare il fiato corto dopo, perché non si può sempre andare a 200 all'ora, ma la cosa più grande che accade quando si sta sotto è che ogni volta che si zoppica, che in questo caso è una sconfitta, è come se fai un chilometro indietro, invece magari hai fatto solo un metro indietro, oppure ti sei fermato per un secondo, ma sembra che hai fatto tanto di peggio, perché purtroppo vieni subito risucchiato dalle altre squadre, quindi oggi è proprio quella la nostra fatica più grande ed è lì che noi speriamo che la squadra sia compatta, dobbiamo essere martelli, non c'è niente da fare, pensate a come stavamo due mesi fa e vedete che magari ci viene un sorriso, perché due mesi fa noi eravamo ultimi a sei punti dalla salvezza, questa era la posizione, oggi siamo salvi, è vero, con tutte le squadre addosso, però qualcosa è cambiato, dobbiamo avere fiducia, io questo dico positività, fiducia, io vado d'accordo con l'allenatore, l'allenatore non si cambierà più, questo è l'allenatore che per me ci salverà, il direttore è inutile che vi dico quanto sia legato a Castori, quindi è un appello, questa è una conferenza appello, per favore non scrivete in esattezze, perché oggi qualsiasi cosa ci può portare un punto di meno, secondo appello, vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno di tutti perché dobbiamo fare punti con la regina. Grazie. Guardate, anche lì, vorrei dire, non è una cosa che mi compete, però io ho letto il PEF, credetemi, quello che è stato scritto ultimamente è stato scritto in maniera sbagliata, il PEF è, secondo me, un documento fatto in maniera importante, corretto, adesso c'è il Comune che sta valutando perché comunque anche il Comune dovrà fare degli investimenti, però secondo me se valutano il quadro generale anche in virtù di quello che dovrebbero spendere per mettere in sicurezza lo stadio, per me il PEF dovrebbe essere accettato, poi detto questo stanno comunque parlando tra di loro per cercare una quadra, nel senso qualcosa da sistemare sia a favore del Comune che a favore della società, però per me il progetto andrà avanti perché sarebbe troppo da stupidi non andare avanti, signori, la situazione del Curi è quella che è, abbiamo lo stadio chiuso, questa è la realtà, abbiamo lo stadio chiuso per problemi di sicurezza, signori, va rifatto lo stadio, quindi non cogliere un'occasione del cenere, per me non sarebbe da intelligenti, detto questo vanno fatte le cose in maniera tale che tutti sono contenti, questo sicuramente sì.